Sola Mai racconti di donne, donne in racconto di e con Cinzia Mirabella in scena sabato 11 aprile al Clebbino in via Luca Giordano 73 Napoli. Ne parliamo con Cinzia Mirabella, ci racconti un po' questa tua pièce teatrale. Sola Mai perché sono in compagnia di una serie di personaggi femminili. Questo spettacolo è una sorta di viaggio emotivo tra sentimenti, racconto di sentimenti, di situazioni. Si parla di amore, si parla di follia, si parla di desiderio, si parla di lavoro e sono in buona compagnia perché sono tutte donne molto guerriere, donne che hanno da dire qualcosa. Siccome io sono, a parte come attrice, ma anche come persona, una donna che vuole sempre dire e cercare di arrivare a comunicare quello che sente, allora ho scelto delle eroine, dei personaggi molto vicini a me. Sono testi di autori comunque noti? Alcuni autori come per esempio ci sono alcuni brani di Ruccello, Chiti, Ugo Chiti, c'è anche un Luciano De Crescenzo, sono vari stralci e poi naturalmente insomma io poi interpreto, insomma dando un po' di video. Con la tua solita maestria ci sono altre date, altri luoghi dove pensi? Io ho messo un'anteprima e sono contentissima di farla perché io già l'ho fatto però questo qui è un inedito, nel senso che ci sono brani nuovi, per cui mi fa piacere farlo qui al Clebbino l'11 aprile alle 9 al Clebbino in via Luca Giordano 73. Al Clebbino quindi nell'ambito di una serie di manifestazioni e attività culturali che questa associazione offre alla sua utenza e ai suoi associati. Abbiamo qui il presidente dell'associazione culturale che è Piera Salerno che ci illustra un po' quali sono le principali attività, questa del teatro e una che segue da tempo. Sì grazie, il Clebbino nasce come luogo di aggregazione, nasce con l'intento di creare dei momenti piacevoli e culturali per gli amici che ci frequentano. Le iniziative sono tante per cui dalla mattina alla sera noi siamo qui e svolgiamo ogni tipo di attività, dalle attività sportive, dall'aerobica pilates, zumba, non ci facciamo mancare niente. Abbiamo anche corsi di lingue, di inglese, di spagnolo, corsi di bridge, di burraco, di avvicinamento al vino, veramente di tutto, laboratorio teatrale. E poi tante iniziative culturali che svolgiamo di sera, quindi dalle presentazioni di libri, serate inogastronomiche, serate di teatro come la serata che avremo con Cinzia Mirabella, con Rosaria De Cicco. Abbiamo avuto tanti ospiti e insomma cerchiamo di divertire e di rendere interessanti le nostre ore. Allora grazie a Cinzia Mirabella, grazie a Pera Salerno, l'appuntamento lo ricordiamo è per sabato 11 aprile al clubino Sola Mai, racconti di donne, donne in racconto di e con Cinzia Mirabella per Napoli Flash.